In questo momento, diciamo a marzo del 22, ci siamo attestati a un prezzo medio di un euro e mezzo per metro cubo. Quindi, per essere molto chiaro, se dovessi stoccare 10 miliardi di metri cubi, mi servirebbero 15 miliardi di euro. Sto facendo un calco un po' vuoto per pieno, ma credo sia evidente. Quindi, chi fa questo stoccaggio deve mettere 15 miliardi sul tavolo. Vi faccio presente che un anno fa, di questi tempi, quando il gas era esattamente uguale a quello che c'è adesso, anzi un po' di meno, perché ora stanno flussando leggermente di più, il costo era di 30 centesimi a metro cubo. Quindi, gli stessi 10 miliardi avrebbero richiesto un anticipo di 3 miliardi. Ora, io non ho nessuna intenzione di sollevare problemi senza proporre soluzioni, come qualcuno ha voluto intendere. Però, siccome la quantità di gas è uguale, non dico nemmeno di più, è uguale, non è molto giustificato il fatto che, a parità di tutto, il prezzo mi vada da 30 centesimi a 1,5. E' quindi che uno stoccaggio mi costi da 3 miliardi di anticipo, che potrà fare l'operatore, a 15 miliardi, perché 15 miliardi è una cosa un po' diversa. Ecco, questa è stata la mia affermazione, forse un po' dura, sicuramente non mi sono espresso con termini giuridicamente corretti, ma credo abbiate capito lo spirito. Se la materia è la stessa, non è possibile che mi costi 5 volte di più, perché stiamo mettendo in ginocchio gli operatori, i cittadini, tutti quanti. E' ovvio che qui il problema non è un problema, non c'è qualcuno in Italia che sta facendo una cosa sbagliata, è un problema di quotazione di un mercato, di questi hub, che non lavorano sulla materia prodotta, ma scambiandono contratti, certificati future. E questo è un problema molto serio, che sta mettendo in ginocchio non l'Italia solamente, ma sta toccando tutti i paesi europei.